eccoci qua buonasera a tutti siamo finalmente in diretta ce l'abbiamo fatta questa sera è stata un'impresa perché in francia dove abita chantal un temporale abbastanza intenso il diluvio ha creato problemi di connessione speriamo che la linea regga per tutta la serata in caso contrario la ripeteremo domani sera quindi speriamo di farcela dai sì io spero che tenga perché la corrente va e viene da un'ora quindi ora rientrata però quando c'è un temporale qua la corrente salta anche per un giorno intero siamo in piena campagna i cavi sono ancora belli appesi e visto che siamo in mezzo ai boschi basta che un ramo si sposta che ci proviamo luca siamo di essere fiduciosi quindi benvenuti a tutti buonasera scusateci del ritardo siamo tornati siamo felici di essere qua nuovamente passato un po di tempo però io e chantal insomma ci teniamo a questi a questi incontri quindi chantal partiamo subito così a bruciapelo ok questa è una serata dove si parlerà molto di te delle tue esperienze del tuo vissuto e secondo me e sicuramente anche secondo molti ascoltatori sarà molto importante perché potranno utilizzare tra virgolette le tue esperienze come spunto e come confronto con se stessi e con le proprie esperienze di vita quindi credo sia una serata davvero molto bella molto importante e come dicevi tu insomma abbiamo cercato di creare una serata molto scorrevole e leggera visto che di pesantezza ce n'è già abbastanza giusto luca bravo bene allora si parla molto di guida e chantal le mie guide hanno detto dicono fanno brigano ma quando è che è avvenuto il tuo primo contatto con le tue guide e come è avvenuto ti piacerebbe saperlo a voi piacerebbe saperlo allora per me questa forse la serata più difficile ho fatto venire anche il temporale per cercare di saltarla questa serata perché ecco si parla di tante cose però insomma quando posso evitare di parlare delle mie cose preferisco quindi non ho mai parlato del rapporto con le guide per me c'è ancora un mondo molto intimo che che faccio fatica a raccontare non perché non voglia dirlo non c'è nulla da nascondere ma perché comunque sono esperienze sempre molto fraintendibili o si parte in un giudizio stra positivo della persona o si parte in un altro giudizio però ecco sono cose così così poi individuali che in genere non racconto perché mi dico che utilità hanno cioè del mio rapporto con le mie guide che in che modo può essere utile agli altri quindi io mi affido in questa in questa serata a te a luca e a chi ha fatto queste domande perché io me le sarei risparmiate il mio rapporto con le guide innanzitutto raramente le chiamo guide anche se lo sono sono dei fari senza dubbio io li vivo come come famiglia per me sono casa sono sono proprio la mia famiglia sono fratelli amici esseri persone che mi amano di un amore non infinito di più così come ognuno no delle nostre guide non solo le mie ma ovviamente ognuno ha questi fratelli intorno a sé che che ci ci donano un amore incondizionato e io attraverso il loro amore sono cresciuta molto perché mi dico ma cavoli se degli esseri come loro mi amano così tanto e mi vedono così bella forse forse da qualche parte questa bellezza c'è quindi ogni volta che io non mi vedo così che mi vedo che sono a terra che mi vedo l'ultima arrivata del pianeta terra e succede sistematicamente che che mi giudico mi butto giù beh è semplicemente il sapere che loro ci sono mi fa sentire degna di esserci quindi già per me loro sono questo sono questo punto di riferimento nella notte quando le mie tenebre le mie ombre vengono fuori e questi ultimi mesi insomma con tutto quello che sta succedendo le nostre ombre tendono a farsi sentire beh sicuramente ehm loro per me sono sono quei fari per rispondere alla tua domanda non ho avuto un un incontro con loro subito ehm come dire non è stato un incontro plateale che mi sono ho aperto gli occhi un giorno ed erano lì davanti a me non è andata così è stato un crescendo eh all'inizio erano sensazioni erano percezioni ricordi e poi negli anni crescendo sono diventate manifestazioni sempre più tangibili ehm per questo io dico sempre mai perdere la fiducia e la speranza perché bisogna dare il tempo al corpo fisico e alla mente di aprirsi all'idea che qualcosa di invisibile possa esistere è la mente che crea il filtro è la mente che ci impedisce di vedere come se come se non avessimo tante finestre la mente tende a chiuderle e a farci vedere solo il cubo la materia l'ego ciò che possiamo toccare il fatto di educare la nostra mente con la fiducia col cuore con la fede la fede non ha nulla che vedere con la religione la fede è proprio il sapere il conoscere che che vi è qualcos'altro e rimanere aggrappati a quella corda del di altro e prima o poi quella corda ci condurrà a vedere sempre di più questo altrove quindi ehm sin da piccola avevo questa questo ricordo ecco io eh sono proprio nata forse forse il quando mi si dice tu hai dei doni io non so se ho dei doni ma sicuramente ehm ho avuto questa scintilla accesa dalla nascita questa questo ricordo di dirmi no eh questo non è il mondo che conosco la la nostra vita il mondo da dove veniamo è ben diverso e e per me era una certezza una certezza che ho iniziato a mettere in dubbio in durante l'adolescenza più in là ma da piccola era era cellulare questa convinzione ehm quindi ho mantenuto aperto nella mia mente nel mio essere questa finestra che qualcos'altro c'era forse questa finestra mi viene da dire che mi ha salvata non so se se è un'espressione giusta oggi mi viene da dire così quindi mi lascio andare all'intuito a quello che viene eh quella finestra lì mi ha permesso di rimanere ancorata a a a quella certezza che vi fosse altro e quella finestra negli anni è diventata sempre più grande fino ancora oggi ogni giorno per me vivere è aprire quella finestra per me questo è vivere e penso che quella finestra sia infinita quindi ecco da piccola avevo questo ricordo e mi dicevo e mia mamma tra l'altro me l'ha confermato qualche mese fa parlavamo insieme e mi diceva ma sei Chantal che tu da piccola me l'hai detto una volta con forza cioè io dicevo mi devo ricordare che cosa sono venuta a fare mi devo ricordare qual è la mia missione e ora non mi ricordo ehm esattamente come me l'ha detto mia mamma qualche tempo fa ma mi aveva detto ma tu Chantal me lo hai detto io questa cosa non me la ricordo che io ho detto mia mamma mamma mi devi ricordare che io sono venuta per questo quindi ecco ehm questo ricordo mi ha portata vivere tra due mondi non subito non erano due mondi ben distinti come lo ora non sono più due mondi sono uno solo ma prima c'erano queste due sensazioni la casa fisica i genitori che avevo la scuola l'asilo e poi c'era il ricordo che invece tutto questo fosse fosse finto e la vera casa fosse altrove mi ricordo una scena da piccola è una cosa che racconto spesso dove vedo mio papà avevo tre quattro anni vedo mio papà entrare in cucina e ho avuto un momento dove non l'ho riconosciuto io non sapevo chi fosse quest'uomo cioè dopo quattro anni insomma eh cioè eh e proprio ho avuto un attimo che ho dovuto chiedere a mia mamma mamma ma chi è perché io non mi ricordavo non 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 riuscivo cioè vedevo questa persona ma una parte di me in quel momento non riusciva a collegarla alla figura paterna perché c'è stato un attimo da piccoli succede spesso che eh sono andata in corto circuito l'ego terreno mi abbandonata e non mi ricordavo più che ruolo avesse quella persona in quel momento quindi è stato è stato molto forte no? Ehm e ehm quindi questo non sapere quale fosse la vera vita quale fosse la vera realtà mi ha portata comunque ehm non dico a vivere male perché non vivevo male da piccola non sapevo cosa fosse il male ancora ehm però ehm mi ponevo molte domande domande non di testa era un un laborio interiore di dire c'è qualcosa che non mi torna c'è qualcosa che non mi torna fino a quando ehm quando questo questo malessere se possiamo chiamarlo così interiore diventava forte davanti a me si presentavano degli occhi io ho iniziato a vedere le mie guide famiglia chiamiamola come vogliamo attraverso degli occhi quindi nei momenti in cui stavo più male di fronte a me si apriva come un secondo sguardo non era lo sguardo fisico era un altro sguardo che vedevo non altrove ma vedevo nel stesso luogo ma in frequenze diverse frequenze sovrapposte e ehm e la mia vista era ancora magari non chiara io vedevo questa luce bianca bellissima e in questa luce mi apparivano degli occhi sorridenti degli occhi che parlavano degli occhi che parlavano e mi dicevano stai tranquilla noi ci siamo stai tranquilla quello che senti è vero e ehm quindi ho iniziato così il il mio rapporto con loro ehm questi occhi mi hanno accompagnata per tanti anni fino a quando eh sono cresciuta quindi eh forse è cresciuta anche la mia visione non non lo so ancora però ecco un giorno li ho visti li ho visti per intero ho visto non solo gli occhi ma li ho visti tutti dovevo avere non so intorno ai dieci anni forse un po' prima lì è stato il mio primo contatto dove sempre in un momento sicuramente di dove mi mi ponevo delle domande quello sguardo no quello quello sguardo che vede oltre è diventato un'esperienza non era più vedo qualcosa ma sono dentro la visione cioè mi sono ritrovata con una parte della mia coscienza ad essere con quegli occhi quindi anche qui nei mondi sottili eh lo spazio è molto diverso da come da come lo pensiamo noi pensiamo sono qui l'altro è là mi devo spostare invece nei mondi sottili tutto esiste nello stesso momento possiamo essere dentro la scena fuori dalla scena allo stesso momento un po' quindi quel giorno ehm mi ricordo che ho visto questa famiglia questa famiglia di esseri eh c'erano più giovani c'erano più anziani ehm e per me è stato il mio primo incontro con ciò che possiamo chiamare la famiglia celeste e questi esseri mi hanno mi hanno ora non voglio raccontare della della mia vita della mia storia animica la mia grande storia animica ma eh mi hanno detto eh un po' chi sono mi hanno detto che loro fanno parte del della mia equip siamo una una famiglia un'equip ehm ci incarniamo sul pianeta da diverso tempo e eh mi hanno detto che ehm questa volta sono stata scelta io diciamo come ambasciatrice sulla terra per per rimborcarsi le maniche però come ho detto noi siamo con Teo quello che tu fai lo fai per tutti noi quindi questo è stato un incontro con la famiglia celeste questa famiglia che abbiamo nei piani sottili nella nostra casa eh mi sono resa conto che ehm non abbiamo la mamma il papà lo zio ma i ruoli sono determinati da un'adultità animica quindi più saggi sono i punti di riferimento i più giovani sono chi ancora devono essere più seguiti ehm quindi tutti noi tutti noi apparteniamo a una famiglia animica nessuno nasce da solo nessuno vive da solo questa ormai per me è una certezza siamo tutti amati e quindi ho iniziato con loro e poi la visione delle guide eh si è molto più espansa crescendo perché eh abbiamo delle guide fisse tutta la vita ma poi ehm tutte le grandi anime i grandi maestri ehm posso parlare anche di arcangeli io ci credevo poco negli angeli nell'arcangeli invece poi mi sono dovuta ricredere perché io seppur viva nel mondi sottili però eh dico sempre capricorno nata a Bergamo quindi mi piacciono le cose concrete io angeli angioletti io vedo persone concrete ehm invece poi ho visto anche la concretezza di queste figure angeliche e anche loro sì anche loro fanno parte a volte del delle nostre guide ecco non so se se volete saperne di più però come prima esperienza è stato è stato questo sì è molto bello quello che ci hai raccontato anche perché poi in realtà no quello che ci dici eh che hai mantenuto aperto no quella sorta di di visione quella quello spazio e l'aver mantenuto aperto quello spazio ha fatto sì che chiaramente no ti abituassi no piano piano nell'arco degli anni ad avere sempre più contatto con queste energie bellissimo questo molto bello e poi prima hai usato un termine che mi ha colpito molto no e hai parlato di dignità no nel non sentirsi degni nel non sentirsi abbastanza e credo che sia davvero il momento di sentirsi degni questo eh sì è molto importante eh per me è stato più faticoso sentirmi degna che non per me mi dice Chantal devi lavorare su questo non c'è problema Chantal è questa zona d'ombra Chantal va bene ce la guardiamo con questo ormai sono pronta io ogni anche ogni critica che ricevo ogni commento me lo vado a vedere ehm non è che do per per scontato che sia sbagliato no no io mi mi dato un bel lavoro da fare perché secondo me dietro ogni critica ogni osservazione c'è c'è qualcosa di vero magari espresso male espresso con rabbia però mi dico qualcosa anche di piccolo ci deve essere e me lo vado me lo vado a cercare invece quando si parla di eh di bellezza di luce almeno come sono io di indole faccio molto più fatica tendo a eh a rimanere bassa piccola perché forse mi mi fa paura anche il sentirsi troppo io ho avuto dei genitori che mi hanno tenuta bene con con la testa e l'ego me l'hanno tenuto ben ancorato a terra quindi ma penso che sia una cosa comune aver più fatica a riconoscere la nostra potenzialità che non eh i difetti è più fa più paura la nostra potenza che è la nostra immensità i difetti sono piccoli è facile gestirli sono visibili l'immensità fa più paura almeno così la sono d'accordo con te è vero la luce fa paura la propria luce intendo eh ci mancherebbe senti un po ma come hai vissuto questo dono ammesso che per te poi fosse davvero un dono all'inizio no con con te stessa quindi come con come chantal come persona nella vita di tutti i giorni e come l'hanno vissuta e come la vivono chiaramente i tuoi genitori però i genitori bisogna chiamare loro non so come se la se la vivono non so come ma se la vivono eh eh ora ti rispondo per i miei genitori non non lo so sicuramente le ho sconvolti più volte e penso ancora ogni giorno mi dicono sei un un uragano perché ogni giorno ne ho una nuova gli sconvolgo la vita non hanno il tempo di di sedersi un attimo dire ok un po di calma che io subito dai papà dai mamma facciamo questo e sono penso che sia stato difficile per loro nell'adolescenza penso che per loro sia stato beh come per tutti i genitori ehm ci sei Luca perché ti vedo bloccato ti sento ti sentiamo ti vediamo ora che non che non vada la connessione ok va bene ehm penso che per loro dicevo sia stata dura l'adolescenza perché lì ho preso o la tangente o la strada giusta eh ancora non non lo so però ehm lì io sono entrata molto in contrasto con le regole con la scuola io ho scuola ehm non che io abbia problemi con lo studio anzi però per me eh studiare io ero convinta che lo studio dovesse essere in linea con con il vivere cioè lo studiare dovrebbe portarti a vivere meglio a conoscere i misteri della vita ehm non che bisogna cancellare le nostre materie non sto dicendo questo però secondo me ci voleva ci vuole una finalità più alta e invece i professori che avevo mi dicevano studia memoria queste pagine e punto finita lì io che ho grossi problemi con la mente nel senso che questa è una mia problematica io la vivo così io faccio fatica ad avere un un pensiero logico cioè la mia mente funziona di immagini io per dire una cosa vedo l'immagine poi la mia mente la traduce quindi l'imparare delle parole a memoria per me era proprio un limite cioè io non ho come se non avessi la struttura per memorizzare quindi facevo uno sforzo quotidiano di ore perché le ore a scuola poi sono tante e ti occupano in italia la scuola c'è persino il sabato quindi sei giorni su sette la domenica compiti quindi eh quasi tutti i giorni dovevo indirizzare il mio strumento verso una parte del cervello eh che a me non funzionava e quindi era estremamente eh doloroso per me ma davvero una fatica sovrumana era una fatica sovrumana e sentivo che giorno dopo giorno la mia finestra aperta si chiudeva e interiormente io mi sentivo morire per me questa era la sensazione mi sentivo ogni giorno che quella luce dentro mi si spegneva quel ricordo quella verità mi si spegneva con questo non sto dicendo che la scuola non vada bene perché poi le persone dicono Chantal ha detto che no quella è stata la mia esperienza i miei bambini li mando a scuola e spero che non facciano le mie stesse le mie stesse esperienze però ecco per i miei genitori che lavoratori lavorano da quando hanno 14 anni in fabbrica che anche la figlia smetta di studiare e che non abbia una visione del suo futuro eh concreto ecco mi mi rimproveravano di non avere concretezza quando per me i mondi sottili erano più che concreti non è che dicevo i miei eh guardate che io vedo questo vedo quello allora non vado più a scuola cioè mi dico ti sei fumata quindi è stato molto difficile stare dietro le mie scelte eh oggi e forse lo dico con fierezza il fatto che vedono che qualcosa di bene faccio va anche a guarire tutti gli anni difficili passati perché eh ce l'ho fatta in qualche modo no non non ero fuori di testa non ero matta ma forse veramente quello che sentivo era giusto quindi penso che oggi se la vivono bene spero che siano contenti eh di 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 chi sono so che sono un far non non so se dire un fardello ma insomma vivere con me non è facile non è non è facile sia per mio marito che per i figli ehm insomma avermi in casa tutti i giorni è un è un lavoro su di sé continuo mi me ne rendo me ne rendo conto poi non so spiegare il perché ora non sono non sono tremenda però tutto ciò che mi circonda tutto ciò che comporta io per molti anni mi sono sentita di troppo un peso per mio marito per gli altri per la mia famiglia perché insomma ehm si muovono tante cose e a volte il corpo ha bisogno di dire alto un attimo c'è un attimo di tregua è troppo troppo quindi capisco che non è non sia semplice avere una figlia così però spero che che ecco tra tra dieci vite possano dire cavoli però è bella quella vita lì con quella figlia vabbè ora sto scherzando ma io ho conosciuto la tua mamma e tuo papà e credo siano davvero fieri ed orgogliosi di te comunque si dice mi hanno voluta quindi da qualche parte se la sono cercata ora mi tengono così come sono io lo dico senza alcun dubbio assolutamente come io vivo come io vivo le capacità mi avevi detto i doni sì se per te poi questo effettivamente è stato un dono fin dall'inizio o o è stato anche un fardello o qualcosa che ti ha spaventato allora già per me non è un dono mi dicono chantal se qualcuno di speciale quando me lo dicono io ho la pelle d'oca perché no no io mi sento la ma proprio sulla persona più normale di questo di questo mondo vado a fare la benzina prendo il carrello per fare la spesa cioè proprio normalissima io non l'ho mai vissuto come un dono perché ci sono nata non sono mai stata diversa da così quindi è come dire come vivi il fatto che puoi parlare come vivi il fatto che puoi pensare è così cioè non ce lo stiamo a chiedere quindi per me è un senso che ho che ho sempre avuto quindi non conoscendo altro per me è normale avere questa finestra aperta e ecco non l'ho mai vissuto come come un dono capisco che possa essere visto così lo vivo come per me è ossigeno è ossigeno io ho avuto un momento della mia vita dove per due o tre mesi questa finestra si è chiusa quanti anni avevi ma non era tanto tempo fa sarà stato due o tre anni fa era sì sì in questo ecco in questi ultimi anni dove ho rivissuto una situazione della mia vita che era è stata molto simile qualcosa che è successo in altre vite poi magari ecco vi racconto un po che non delle mie vite passate ma di come mi rimane ricordo no perché spesso mi viene chiesto e quindi in quest'altra vita a causa di una situazione avevo un po chiuso queste capacità proprio perché non erano accettate per paura delle conseguenze per paura del rifiuto quindi ho vissuto una situazione simile e ho sentito che dentro di me stavo per vacillare ancora sul dire ok mollo tutto chiudo e io non voglio più saperne nulla quindi per due o tre mesi ho vissuto questa situazione dove non non avevo più sensazioni ed è stato è stato tremendo è stato come chiudermi gli occhi cioè togliermi proprio un senso e mi sono resa conto dell'importanza per me di avere questa boccata d'aria non potrei più non potrei più far a meno di questo sguardo sull'oltre perché per me ormai è diventata la vita vivere e navigare in quella in quella finestra è stato però per tanti anni queste capacità questa finestra per tanti anni sono state un fardello ora come posso dire ora non è più questa finestra un fardello ma è come gli altri mi vedono e la vivono o il mettermi su un piedistallo sei speciale o tu sei fuori di testa ecco è il giudizio degli altri che sia positivo negativo perché in qualche modo queste capacità ti mettono una posizione di essere diversa quindi a volte non è semplice avresti voglia di una vita normale quindi forse è più questo che chiede da gestire per me ma in sé in sé le capacità no sono ormai non per molti anni pensavo di essere matta quindi davvero come si dice le ho le ho un po mandate a quel paese sì tante volte non ho avuto esperienze di paura anche se esperienze tol toste non avute tante anche anche forti ma non so perché non ho non ho non ho mai avuto paura quindi molti mi dicono io ho paura vedere ho visto questo ne ho paura io non è non ho non ho mai avuto paura perché anche le situazioni più d'ombra anche quando mi sono confrontata con esseri poco poco piacevoli perché nel mondo sottile ora si vedono anche nel mondo fisico ma nel mondo fisico sono camuffati nel mondo sottile quando si è neri si è neri non c'è un trucco però mi hanno non mi hanno mai spaventata paradossalmente perché sono esseri coerenti non so come spiegarvi questa cosa cioè mi fa molto più paura l'essere umano quando non prende una decisione un essere umano che non è né luce né ombra a volte ti tira fuori la luce il giorno dopo ti tira fuori l'ombra mi fa molto più paura questo dell'essere umano in generale è un po quello che si vede in questi in questi ultimi in questi ultimi anni che non un'entità che si dichiara come nera allora sai sai che cosa aspettarti ecco ho più paura quando della non chiarezza sì bene poi mi dice io parlo io parlo tira però non so poi cosa mi dico se 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 vuoi chiederti chantal sai che con me sfondi una porta aperta perché io come gli altri staremo qua delle ore ad ascoltarti ci piace molto la tua dolcezza la tua semplicità la tua naturalezza e soprattutto la tua umiltà quindi non aver nessun tipo di scrupolo problema o timore vai tranquilla senti un po ma come e in quale modo invece avvengono i tuoi viaggi nei mondi sottili in particolare se ce lo puoi raccontare se voglia di raccontarcelo il tuo contatto con gli esseri della natura allora come avvengono i miei contatti penso che bisogna smontarmi e vedere come funziona per una volta sono una volta mi faccio seguire da da una signora qui della zona che fa medicina cinese ma anche capacità sue è un punto di riferimento quindi una due volte all'anno vado per per farmi tirare un po su per farmi mettere a posto e mi ha fatto sorridere un giorno che mi ha detto ma chantal ti posso studiare possiamo fare degli esperimenti per vedere come funzioni è bella sta cosa ho un altro amico che è un grande medico e agupuntore e lui non vuole si rifiuta di farmi agupuntura perché ha paura di rimettermi a posto cioè di togliermi le capacità e mi ha detto no 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 ti lascio i tuoi disequilibri perché funzionano quindi sì 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 mi fa mi fa ridere non ti tocco se no diventi normale allora allora avvengono in più modi queste connessioni in genere è una chiamata ed è particolare questo non mi suona il cellulare interno però è come se il mio essere cambiasse posizione interiore cioè io ripeto io faccio la mia vita normale passo l'aspirapolvere cucino lavo i piatti eccetera ma c'è un momento arrivano come se il mio essere non fosse più posizionato nelle faccende umane materiali ma si posiziona all'interno io sento proprio un cambiamento di posizione non so come altro spiegarlo dove qualcosa dentro di me si allinea non c'è più la personalità non c'è più il superfluo non c'è più tutto questo ma c'è 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 qualcosa e io devo assolutamente mollare quello che sto facendo o sbrigarmi e mi metto in meditazione o mi sdraio eh se posso altrimenti cerco di far finta anche se a volte sono in giro sono in pubblico ad un seminario o in per strada in macchina eccetera eh cerco di estragniarmi quindi il mio corpo va avanti ma tutta la mia coscienza si focalizza verso la chiamata quindi lì mi si apre questo sguardo quindi o vedo delle cose oppure la mia coscienza come se si tuffasse ehm più che tuffarsi ho le sensazioni che mi allungo mi allungo e eh il mio corpo continua a vedere quello che può vedere l'occhio normale ma eh io mi connetto a parti di me multidimensionali che sono già in altre dimensioni e la mia attenzione deve essere in quel momento in quelle dimensioni quindi è come se dicessi ok non più Chantal uno terra ma Chantal due o tre di quella dimensione vai e ehm e vedo quest'altra me quindi vedo come un prolungamento di me un'altra me che è in altre dimensioni e vedo cosa devo vedere a volte sono con i defunti eh a volte sono nel mondo della natura ma magari vi racconto qualcosa a volte sono con le mie guide eh ieri ora non non so quanto vi può interessare questo ma ieri c'è stata una chiamata a riunione importante in altre sfere non ero l'unica ma in diverse persone sono state chiamate molla tutto mi fermo eh perché potevo e son partita mi sono ritrovata ero già seduta ad una tavola illuminata con altre persone e mi sono state dette delle delle cose ehm altre volte invece di notte di notte io mi ritrovo direttamente mi risveglio nei mondi sottili cioè chiudo gli occhi un po' come il film avatar quando chiude gli occhi in un corpo e si risveglia nell'altro ecco mi succede la stessa cosa cioè di notte chiudo non tutte le notti non dico che tutte le notti sto tutto quello che faccio dormo anch'io ehm però ecco è proprio chiudo gli occhi qua e sento la mia coscienza partire e si risveglia in in altre dimensioni quindi le esperienze sono vastissime e sono quotidiane cioè eh ogni giorno appunto quella finestra o è aperta o si si apre un po' di più quindi ogni giorno per me è una scoperta ogni giorno ora non so tutti i giorni però insomma spesso eh ogni giorno è qualcosa di nuovo quindi la vita non è mai la stessa perché mi offre ogni giorno uno sguardo uno spiraglio in più che dico ma cavoli ma questo non lo sapevo ma questo è sempre più bello sempre più grande ehm quindi poi vabbè eh le esperienze sono tantissime dal parlare con gli animali dal parlare con la natura ehm al viaggiare tra tante dimensioni a viaggiare su pianeti a viaggiare nelle città sotterranee Telos Shambhala ehm insomma di esperienze ne 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 vivo tante ehm con gli esseri della natura io sono molto in contatto con gli esseri dei boschi in contatto affinità non so come chiamarla e eh con gli esseri dell'acqua gli esseri dell'acqua io paradossalmente eh sono poco poco acqua nel senso che eh devo vedere il fondo ecco io ho bisogno di vedere il fondo faccio parte di quella generazione dove i bagnini ti buttavano in due metri della piscina e ti urlavano nuota nuota ho ancora il trauma eh quindi l'acqua dove non tocco sì ci nuoto però insomma non è il mio elemento però paradossalmente un grande legame un'affinità sì con gli esseri dell'acqua la prima volta che ho avuto un incontro fortissimo è stato in Messico dove eravamo su delle barchette su un lago che non ricordo eh un lago particolare non ricordo il nome e eh ecco quindi eravamo su queste barche ehm e la guida parlava spiegava del di cosa c'era qua cosa c'era là e io a un certo punto ho avuto la chiamata sono andata in cortocircuito è come se mi togliessero la spina ad un livello e me la agganciano in un altro quindi tolta la spina di qua chiudo ho bisogno di chiudere gli occhi e mi ritrovo questa volta non in mondi sottili ma sì in mondi sottili ma acquatici cioè mi sono risvegliata la spina è stata agganciata dentro il lago quindi eh la mia coscienza si è ritrovata a fluttuare immersa a degli esseri acquatici quindi vengono chiamati le ondine sono come folletti hanno questi occhi molto a mandorla puntiti anche le orecchie ma hanno il corpo che sembra un abito tutto un velo molto fluttuante non potevo definire le gambe i piedi come avviene magari con altre fate o con altri esseri qui era tutto un un fluttuare e erano tanti piccolini che mi 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 ruotavano intorno e mi hanno condotta a visitare il loro regno sotterraneo cioè acquatico quindi c'era proprio ora vi prego non pensate mi sono fumata qualcosa io non fumo veramente mi sono ritrovata in questo regno sotterraneo ovviamente in un mondo parallelo cioè si trova nel lago ma in frequenze diverse e anche per me ecco gli è stata una scoperta non ho più toccato l'acqua né l'ho guardata come prima cioè ho cambiato proprio il rapporto con l'elemento dell'acqua quindi mi hanno fatto visitare questi palazzi questa questa civiltà sotterranea e poi al ritornare sulla barca ero sempre tra due mondi e mi mi si è presentata davanti a me la dama del lago quindi quest'essere era una donna almeno mi si è presentata con forma umana anche qui un dettaglio gli esseri sottili si presentano con una forma che 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 a noi più consona per esempio gli angeli gli arcangeli si presentano a noi come vengono raffigurati nei dipinti perché abbiamo bisogno di riconoscerli attraverso quella quell'immagine ma si va in india magari lo stesso arcangelo si presenta sotto forma di un dio hindu quindi mi si è presentata con questi capelli lunghi scuri questo abito rosso era bellissima ma di una bellezza e lì mi ha dato un messaggio anche lì che mi ha cambiato la vita mi ha detto dove sarei andata a vivere mi ha mostrato il terreno dove viviamo ora mi ha mostrato eh dei progetti quindi vi ha detto ecco c'è c'è questo da fare quindi quello è stato il mio primo incontro con l'acqua e poi vabbè nei boschi nei boschi ci sono questi esseri che assomigliano tantissimo agli esseri dei boschi del signore degli anelli eh davvero il signore degli anelli corrisponde molto a ciò che avviene nei mondi sottili quindi anche con loro se c'è una bella energia nel bosco se è protetto eh mi piace salutarli e loro non vedono l'ora che un essere umano entra in contatto con loro eh non è che si fanno la loro vita chiunque entra in una foresta chiunque entra in contatto con un elemento è visto non c'è una persona che non entra in un bosco e non è non è vista ci vedono l'unica cosa è che noi non abbiamo quella frequenza quella quell'essere sottile quell'energia sottile per poter entrare in relazione con loro ehm spesso mi dicono che puzziamo i nostri pensieri le nostre emozioni puzzano siamo nauseabondi cioè è proprio per loro è quasi impossibile difficile eh avvicinarsi eh lo desiderano ma la frequenza dei nostri pensieri delle emozioni delle nostre emozioni ancora è troppo lontana per loro quindi quando si entra in un luogo sacro che non è un tempio una chiesa la natura è il tempio quindi quando si entra in un luogo sacro io sempre chiedo il permesso se vogliono di farmi entrare nello spazio sottile di quel luogo non solo quello fisico quindi chiedo il permesso faccio come una una reverenza cioè mi inchino alle presenze e mi inchino agli esseri che ci sono con tanta umiltà ehm li saluto li ringrazio e lì saranno loro se vogliono a ricambiare in genere eh in genere così proprio o curiosi saltellano ci saltellano intorno ci sono i folletti più piccoli o gli ignomi che sono molto curiosi giocherelloni dal dal proprio l'elfola o la fata anche le dimensioni cambiano eh da piccolini alti come noi e quindi ci possono dare dei messaggi per noi stessi per l'umanità oppure semplicemente ci si riconosce e si creano quei ponti d'incontro quei quei legami tra mondo fisico e mondo sottile che si sono disfatti millenni 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 fa quindi ecco è tempo pian piano di andare a ricongiungere il mondo fisico al sottile perché arriverà un'epoca dove di nuovo si vivrà insieme. È stato bello quello che hai detto sui pensieri no? Che puzzano no? Eh sì. Le nostre pensieri che puzzano e quindi loro si allontanano no? Non si mostrano non si manifestano non entrano in contatto perché quella roba lì insomma in qualche modo li disturba no? È successo non spesso io sono più visiva o ho delle sensazioni però mi è capitato nella mia vita di sentire l'odore delle persone e quindi c'è proprio un odore preciso che ovviamente non è collegato al deodorante o al profumo ma l'odore dell'energia della persona. Io in genere quando sento l'odore per me è un avvertimento. Di solito è un odore sgradevole perché mi dice Chantal occhio che c'è qualcosa che non va di forte però capisco quando mi dicono in nauseabondo perché c'è stato mi ricordo c'è stati degli episodi che mi è impossibile stare vicino alla persona non perché non le voglia bene cioè io proprio non c'è una persona alla quale non voglio bene penso ma è proprio l'odore mi era impossibile proprio da star male quindi ero obbligata a spostarmi quindi capisco che per loro non è vi snobbo noi siamo superiori ma loro ci riconoscono tutti come fratelli non esiste per loro la separazione tu mi piaci tu no proprio queste sono cose umane loro amano ogni restere perché è un essere perché esiste perché è la vita quindi l'amore è immenso l'unica cosa è proprio c'è una difficoltà al momento energetica e i messaggi che ricevo da parte loro spesso proprio di portare l'attenzione sì sull'inquinamento fisico certo ma ancora di più su quello energetico ancora di più infatti si si aspetta questa nuova era però insomma di siamo non riusciamo ancora a mantenere il pianeta pulito a figurarsi quando dovremo occuparci della pulizia del pianeta astrale cioè la pulizia emotiva e poi la pulizia mentale cioè di lavoro insomma ce n'è ce n'è ce n'è ce n'è un bel po da fare direi sì sono d'accordo con te assolutamente d'accordo con te allora poi volevo chiederti diciamo che molti ti conoscono anzi la maggior parte delle persone che hanno conosciuto anche attraverso i video di youtube per le tue esperienze con i defunti quindi questi viaggi astrali con i defunti e quindi mi piacerebbe sapere perché proprio con questo questo legame no con questo mondo dei defunti dei trapassati ci vuoi raccontare qualcosa ma non è che io sia più legata al mondo dei defunti anzi è venuto molto dopo in realtà la finestra sui sui trapassati che poi ecco sulle persone che si disincarnano ma che ritrovano la vita la loro la loro dimensione è arrivato molto più tardi è arrivato intorno all'adolescenza 15 16 anni ma io prima di esperienze sottili ne avevo vittute molte ti ripeto con pianeti altri esseri di altri mondi eccetera eccetera è stata una mia scelta parlare più di di mondo dopo la morte proprio per un una questione mia di utilità è bellissimo parlare di quello che stiamo parlando stasera possiamo parlare tutta notte delle esperienze no 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 da 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 scrivere da da possiamo davvero passarci le serate però allo stesso tempo io eh ma magari mi sbaglio però mi dico che utilità ha no il ehm bello però poi nel dunque invece ehm ho visto che il parlare di al di là è molto importante perché influenza ehm tantissimo il nostro modo di vivere io le difficoltà che vedo in coloro che se ne vanno ehm sono proprio perché eh non non si sa nulla della vita cioè l'abc della vita chi siamo da dove veniamo perché ci incarniamo che cosa siamo qui a fare cioè sono cose che dovremmo imparare sin da piccoli è la prima lezione che dovrebbero farci a scuola o in una scuola di vita la prima invece non dico che sia l'ultima perché proprio in alcuni casi non esiste proprio quindi eh è una scelta il dare più importanza a questo argomento perché ora io penso che chi è qui stasera già un po' di di spiritualità ne ne mastica però ci sono tantissime persone soprattutto per l'epoca attuale impanicate rispetto alla salute alla vita alla morte ehm il fatto di riconciliarsi col concetto di morte e soprattutto il fatto di di diventare diventare con tutto se stessi il fatto che la morte non esiste in nessuna dimensione il concetto di morte non c'è è quella l'illusione che siamo venuti a smantellare perché ciò che rende l'ego ego e ciò che rende la materia materia è proprio il concetto di finito che qualcosa finisca che qualcosa muoia il primo passo verso la propria finestra aperta verso l'infinito verso la nostra divinità è il comprendere che la morte non esiste ma la si rimpiazza con la parola trasformazione tutto si trasforma continuamente ma nulla muore quindi è proprio secondo me ehm la base la base della base per iniziare a vivere bene per iniziare un passo verso una nuova umanità perché finché l'umanità ha paura di morire allora tutte le aberrazioni del mondo saranno giustificate e ne nasceranno ogni giorno delle nuove perché tutto si fonda sulla paura quindi la paura ti porta ad essere avido volere possedere di più a a non vivere paura di cambiare di fare delle scelte fuori dagli schemi eh non usare fare quello che gli altri non hanno fatto perché che cosa succederà eccetera tantissime cose no quindi è stata una mia scelta il il mettere l'accento di più sul sull'aldilà perché ne abbiamo tanto bisogno una volta che noi siamo sereni che siamo già morti una marea di volte e che siamo qui ancora e che ogni volta ci ritroviamo che siamo sempre noi che e ci lasciamo ci ritroviamo che e ci stufiamo qui perché lo vogliamo vogliamo stufarci in questo mondo perché ci stufiamo in questo mondo perché vogliamo vivere vogliamo aprire quella finestra totalmente e quando ci ricordiamo di questo beh la vita cambia cambia totalmente secondo me secondo me è ora è ora di fare questo piccolo passo quindi do la priorità al mondo dei defunti perché è il primo passettino eh per tutti noi ma è per prima e poi si può parlare di 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 entrare in contatto con gli esseri della natura ecco non so se ti ho risposto mi hai risposto chiarissima sei sempre chiara e diretta eh io credo sia veramente determinante quello che porti tu a proposito del mondo dei defunti io ad esempio ti ho conosciuta per queste esperienze no e quindi era un po un mio sentire lontano però insomma senti sentito dire poi da te no ma questa persona che non conoscevo ancora e mi ha risuonato moltissimo e mi ha proprio aperto mi ha proprio aperto e fatto ricordare effettivamente hai usato un termine molto bello e potente che utilizzo molto spesso anch'io no che la morte non esiste in nessuna dimensione nessuno spazio è qualcosa di straordinario è tutta una trasformazione e questo veramente è la è la bc della vita come dicevi tu prima dovrebbero insegnarcelo fin da piccolini sono pienamente d'accordo io anche di fronte alla morte a volte mi imbarazzo perché certo eh piango c'è la sofferenza quando una persona cara se ne va però allo stesso tempo non posso dire di soffrire per quella partenza e è paradossale perché cioè quando qualcuno se ne va quando c'è la morte bisogna soffrire e invece eh io di fronte alla morte una parte di me soffre la personalità certo perché le viene a mancare la personalità non percepisce più la persona con i suoi cinque sensi quindi alla personalità la persona viene a mancare quindi c'è una sofferenza ma per l'altra parte di me non c'è sofferenza perché la persona non se ne è mai andata anzi quella persona la ritrovo molto di più perché se prima incarnata perché noi incarnati forse siamo il dieci per cento ma neanche di chi siamo ma veramente siamo una goccia piccola della nostra anima piccolissima poi magari adesso vi racconto due o tre cose ma quando una persona se ne va io la ritrovo e la persona si si espande nuovamente sono di quei fulmini si espande e finalmente è lei totalmente e io sento come nella 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 dimensione terrena che quella persona non lascia un vuoto ma viene a colmarne io sento proprio ad esempio per spiegarvi questa cosa io quando i miei bambini si addormentano ora adesso non dormono ancora totalmente io sento che se ne vanno da casa se ne vanno dal loro corpo ma come faccio a sentirlo se loro sono in camera io sono qua è come e davvero sono cose che non ho mai detto a nessuno mi state facendo dire delle cose oggi che non ho mai detto a nessuno non ho mai osato verbalizzarle comunque è come se l'aria cioè l'atmosfera energetica della casa si alleggerisse proprio sento che c'è una una materia energetica in meno quando si svegliano la mattina io li sento a atterrare e lo dico mio marito Filippo sono arrivati e dieci minuti dopo un quarto d'ora dopo arrivano escono da camera mamma si sveglia perché sento che arriva una una materia cioè la stanza è più piena ed è questo che io avverto quando una persona se ne va da un lato c'è un vuoto ma un livello energetico la persona ritrova tutta se stessa quindi va a riempire quella stanza in un modo incredibile e io non posso solo soffrire perché una parte di me è piena dal nettare della persona che si sta ritrovando quindi di fronte alla morte alcune persone vedo che magari mi guardano strana no quando sorrido piena di gioia durante un funerale o perché c'è una bellezza sottile una pienezza che mi riempie mi appaga e non riesco a soffrirne perché non vedo il vuoto non ce n'è non ce n'è c'è solo pienezza e c'è un ritrovarsi finalmente come come si è davvero quindi ecco io vivendo questo sin da piccola vivo anche in in modo diverso vivo le emozioni in modo diverso vivo la vita in modo diverso perché anche il periodo attuale lo vivo vedo che lo vivo in modo diverso perché ho una visione volendo o no anche di vite passate molto più ampia quando ti ricordi di tutte le vite dove sei andato in guerra dove hai fatto la rivoluzione francese dove sei morto per questo torturato bruciato quando quando te lo ricordi nelle cellule c'è quello è come se quello che stessa accadendo oggi a un livello storico fosse un quarto d'ora della vita della nostra anima l'abbiamo vissuto già tante volte e ne abbiamo vissute cose ben peggiori di quello che sta succedendo quindi ecco ho un ho un trasporto emotivo questo volevo dire un trasporto emotivo diverso che a volte mi fa apparire come qualcuno di insensibile invece non è non è che sono insensibile è che sono meno connessa a ciò che sta provando la personalità ma c'è anche ciò che sta provando l'anima quindi questo questi mondi paralleli mi permettono di vivere le cose in modo in modo un po diverso fantastico fantastico e per questo ti ringraziamo allora chantal guarda volendo noi abbiamo già terminato la nostra serata è passata un'ora fuori vedo molti fulmini ogni tanto la connessione che fa un po così quindi non vorrei che cadesse la linea sì 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 allora ne approfitto rispondo un po di domande visto che ce ne sono parecchie ce ne sono ce ne sono un po allora volevo rispondere sui viaggi astrali per chi per chi vuole fare viaggi astrali allora io non ho una tecnica io non lo so non non so dare tecniche io ho il messaggio che che posso dare di quello che mi viene dato per me è una questione vibratoria le guide non mi hanno mai ecco un'altra cosa le guide a me non mi hanno mai dato messaggi per me non è mi danno sempre messaggi per gli altri per il pianeta terra quindi non mi hanno non mi hanno mai istruita fare viaggi astrali non è sono un po' un'autodidatta infatti io sono un po' arrabbiata per questo e quando quando tornerò completamente negli altri mondi mi sentiranno perché di aiuti ne ho avuti pochi a volte dico cavoli ma aiutatemi un attimo quindi non ho non ho non ho istruzioni non ho tecniche quello che mi viene dato e detto per me questo è ciò che per la mia anima è utile è che quella capacità non sia il frutto di una tecnica acquisita ma sia il frutto di uno stato d'essere perché la tecnica acquisita non essendo di pari passo con un'elevazione del proprio amore e della propria luce può essere difficoltosa nel gestirla perché il viaggio astrale non è sempre piacevole i mondi sottili sono vastissimi così come sono vaste le vibrazioni io spesso mi ritrovo in mondi inferiori dove appunto andiamo ad aiutare le anime a volte mi trovo a istruire una visione recente che ho avuto di notte mi sono ritrovata in una chiesa sconsacrata come una chiesa sconsacrata era come quindi questa struttura di pietra ero in un mondo sottile parliamo di al di là ero in un mondo sottile c'erano questi banchi di legno e io mi ritrovo al posto del prete ma non era un rito ripeto era un luogo sconsacrato e io spiegavo delle cose sulla vita sulla morte delle cose ecco come ne stiamo parlando stasera a degli esseri che erano tutti vestiti con delle tuniche marroni non c'era luce non c'era colore i capelli sembravano sembravano irasta per darvi un'immagine questi capelli tutti agrovigliati e la loro pelle era la prima volta che mi è capitato la loro pelle energetica noi nei mondi sottili abbiamo occhi naso, bocca, pelle ma tutta un'altra frequenza beh questa pelle sembrava cenere era come se se perdessero la loro non erano irrigati dalla vita qualcosa in queste in queste persone erano anime persone le portava a essere sconnessi dalla vita e quindi anche la loro forma fisica non era irrigata quindi ora ero lì perché perché dovevo andare lì e fare lezione scuola no perché io sia speciale in tanti lo facciamo non ce lo ricordiamo io ho questa cosa che me lo ricordo però insomma ci sono mondi tosti ma tosti dove è meglio andarci accompagnati quindi bisogna sapere bisogna avere le frequenze elevate anche per uscirne da certi mondi anche per far fronte all'entità che incontreremo quindi secondo me è il miglior strumento non so se ho la casa che trema dal tuono se salta l'acqua lente ci rivedremo comunque quando una capacità arriva con il cuore è perché abbiamo le vibrazioni adatte per quella capacità non sono cose che ci vengono date non sono optional della macchina le capacità tutti siamo chiamati a diventare un Gesù tutti un giorno avremo le capacità dei grandi maestri siamo destinati a questo ognuno di noi nel corso che faccio prima di nascere vediamo proprio questo processo dell'anima fino ad essere un maestro come i grandi che conosciamo quindi ci arriveremo tutti ma non acquisendo delle tecniche perché le tecniche se non c'è la vibrazione la luce a sostenerle spesso nelle vite ci portano o a fare guai o a subirne prima o poi quelle tecniche quelle capacità acquisite così dovranno saltare e avremo l'impressione di tornare indietro di secoli e ricominciare da capo è un po' il caso degli atlantidei oggi molte persone che sono state che hanno vissuto in atlantide e hanno abusato delle tecniche si ritrovano oggi a non avere capacità ad avere molte difficoltà energetiche ci sono persone che hanno incontrato diverse proprio con depressioni consumo di alcol chi invece è un po' posseduto da magie scure proprio karma pesanti proprio perché quelle capacità acquisite sono state acquisite con la forza con l'ego io voglio quell'io voglio prima o poi dovrà saltare e quindi le capacità salteranno in una vita per x ragioni e ci sembrerà di cadere molto più in basso proprio a livello karmico si cade e da lì di nuovo dobbiamo riappropriarci di quelle capacità non più con la forza ma con il cuore quindi sono capacità acquisite come il bambino che cammina naturalmente o che va in bici naturalmente se io prendo un neonato e lo metto in bici sono guai è pericoloso perché non ha le capacità la struttura per gestirla quella bici sarei fuori di testa invece la capacità che nasce con un sesto senso dall'apertura di cuore dal non giudizio dalla bellezza dalla leggerezza dalla luce dall'amore tutti avremo queste finestre sempre di più che si apriranno ma saranno giuste per la nostra età le nostre età animica quindi io l'unico innanzitutto non chiedo queste capacità non le ho mai chieste io non chiedo alla vita cose materiali né alle guide io le guide non chiedo ti prego aiutami in questo ma sono tutte cose esistenziali io quando chiedo l'intervento dalle mie guide è affinché mi aiutino ad essere sempre più in linea con la vita è la sola domanda che io faccio e non aspetto che una capacità mi venga mi venga data non aspetto o me la cerco perché io voglio io voglio più capacità io voglio vedere Laura io voglio io lascio che la vita mi dia questo strumento se ne sono pronta e se a lei serve che io ce l'abbia è un è un atteggiamento diverso finché vogliamo cercare abbiamo un'energia utilizziamo un'energia maschile utilizziamo un'energia egoica ed è il contrario della capacità che vogliamo quindi con quell'energia non ci arriva come il sentire le guide il parlare con loro perché non sentiamo le nostre guide tutti ce le abbiamo costantemente intorno a noi e quando mi parlano per dare un messaggio alle persone mi dicono noi ci siamo non c'è una persona che non abbia qualcuno al fianco a sé è solo che la persona preferisce inconsciamente scegliere i propri pensieri le emozioni il proprio io voglio io sono dal io mi abbandono beh quell'io crea proprio come un'armatura intorno a sé dove le guide come gli esseri della natura non riescono a entrare in contatto con noi ma loro non vedono l'ora più noi facciamo silenzio e più ci accorgeremo che sono sempre stati lì ci hanno sempre parlato quindi ogni volta che io non li sento ogni volta che sto male ogni volta che vedo la vita brutta ingiusta ogni volta che entro in questi pensieri la mia domanda è innanzitutto mi fermo e mi chiedo dove dove io non sono in questo momento allineata con la vita non è il problema che è non è il problema la vita sono io sono io che non ho lo sguardo che non ho quella posizione interiore per entrare in contatto con quindi non c'è nulla da cercare ma secondo me c'è proprio da spogliarci da io voglio quando non ci sarà più volontà personale e ci abbandoneremo totalmente all'unica e sola volontà che non è quella nostra allora lì tutto arriva perché già ce l'abbiamo già siamo degli esseri divini tutto c'è già dato siamo tutti chiaroveggenti siamo tutti viaggiatori multidimensionali tutti siamo telepatici è qualcosa che già esiste l'unico problema è che ancora siamo attaccati a ciò che è denso abbiamo bisogno della densità quando non avremo più bisogno beh sarà più più semplice non so se tu hai visto altre domande ne ho viste alcune allora siamo in 1100 persone live quindi di domande ce ne sono state più di qualcuna è difficile stare dietro a tutte queste domande c'è anche qualcuno che si è un po' arrabbiato però portate pazienza nel senso che non è che non vogliamo pubblicare le vostre domande è che o pubblichiamo le vostre domande e rispondiamo solo alle vostre domande o facciamo la serata con Chantal quindi cerchiamo di prendere qualche domanda e poi ripetere un'altra serata insomma ecco un po' così che funziona non arrabbiatevi davvero perché siete in tantissimi ed è difficile seguire la chat e la nostra serata più che altro vi ringraziamo per essere così in tantissimi perché è bellissimo sapervi in così tanti poi volevo dirti Chantal che c'era qualcuno dal Brasile che ci seguiva live quindi è bellissima questa cosa poi verrà in Brasile è una terra che mi attira tantissimo cioè è una terra molto spirituale quindi sono curiosa comunque parlando di viaggi visto che è ancora presto e alcuni sono tristi che vi salutiamo subito allora esperienze con altri pianeti allora anche lì allora anche qui ci sono pianeti luminosi e pianeti meno ovviamente ci sono razze di ogni tipo io sono stata confrontata con varie razze dai grigi ai rettiliani che tanto non ci piacciono a siriani a esseri delle pleie di venere eccetera eccetera ho anche il ricordo di vite passate io mi ricordo una mia prima meditazione da ragazzina ho fatto la mia prima meditazione e beh mi sono spaventata tantissimo perché non mi sono vista umana il mio corpo non era più umano non avevo più cinque dita il cranio era completamente allungato la vita era piccolina così ero azzurra cioè completamente un'altra quindi mi sono spaventata e quindi possiamo avere anche avuto vite e ce le abbiamo vite in altri mondi non ci si incarna solo sul pianeta terra sono sono siamo io penso che alla fine tutte le nostre anime arrivino dalle stelle di persone umane non so chi c'è di persona umana ora non mi piace parlare tanto di queste cose sono molto particolari ma ho avuto anche esperienze visioni un po' di di quando l'uomo è arrivato sul pianeta ed è arrivato attraverso vie stellari si parla di extraterrestri molto spesso si parla di negativi io ho avuto ho visto ho visto esseri molto luminosi ed evoluti che hanno portato il corpo umano sul pianeta non l'anima l'anima è stellare è il veicolo la macchina che abbiamo che è stata pensata da esseri di altri mondi quindi le esperienze che ho è sia il ricordo di altre vite in questi in diversi di questi pianeti non uno oppure fanno parte delle guide che ci circondano quindi spesso nelle riunioni negli incontri ci sono molti incontri intergalattici mi trovo su astronavi ora stasera si parla così ci si sbottona è una chiacchierata comunque mi trovo anche in riunioni intergalattiche quindi si vedono proprio queste flotte di navi di navicelle che si incontrano dove ecco l'alleanza dei pianeti del nostro sistema solare si incontra e seguono molto ciò che avviene sul pianeta terra è molto seguito poi ovviamente loro hanno anche la loro vita ma il pianeta terra è seguitissimo quindi ecco anche loro hanno aspetti fisici diversi da occhi a mandorla cranio allungato con pietre diademi azzurri oppure da esseri dai lunghi capelli biondi esseri con fisonomie più più feline insomma però io li reputo persone come come noi ma a livelli di coscienza di cuore perché loro sono cuore tutto cuore sono amore puro e però ecco io li vivo davvero come come amici della porta accanto con i quali si chiacchiera si e si vive si vive insieme ecco una domanda che in molti in molti mi fanno come faccio ad avere il ricordo di sì Alex esiste la federazione galattica sì e sulla terra è pieno di esseri sto leggendo paola sulla terra è pieno di esseri di altri pianeti pieno pieno solo che non ce lo ricordiamo sapete che pratico la lettura dell'aura io non ho ancora trovato una persona dove non abbia visto una vita in un altro pianeta tutte alla fine nel vedere la trama del tempo della persona scenari di altri pianeti io li ho visti quasi in tutte le persone siamo esseri stellari anche qui cambiamo il concetto di noi stessi umano pianeta terra siamo esseri dell'universo siamo qui di passaggio per questa volta ma quello che siamo è molto più grande di ciò che crediamo quindi sì sul pianeta esistono tanti esseri incarnati di altri mondi alcuni buoni alcuni no come la dualità nel sistema è presente il sistema solare è presente come come sul pianeta terra quindi ci sono esseri più legati al possedere che hanno bisogno ancora io hanno bisogno di dirsi io posso essere grande quanto Dio ecco c'è questo sostituirsi a Dio e invece gli altri esseri che dicono io faccio parte di Dio Dio attraverso di me quindi questa è la polarità degli esseri del pianeta del sistema solare io sono chi io mi lascio essere quindi siamo in tanti sul pianeta in molti si dimenticano chi sono in molti già nell'adolescenza nell'infanzia si dimenticano si dimenticano da dove vengono si dimenticano la loro missione però fa anche parte proprio di questi esteri di altri mondi venire a sperimentare il pianeta terra perché quando siamo in questi pianeti è tutto meraviglioso quindi ci si mette alla prova e proprio ci si dice ok tutto bello tutto luce però sono in grado sono in grado di trasmetterla agli altri sono in grado di continuare ad esserlo senza lasciarmi perturbare da un mondo della società terrena che insomma cioè proprio la matrice del pianeta terra tende a deviarti altrove quindi in molti si tuffano con una missione di risveglio per portare insegnamenti per ricordare che siamo degli esseri multidimensionali per ricordare la nostra divinità ma non non dimentichiamoci che non c'è una vita dove non siamo qui anche per fare un lavoro su di noi anche per i più grandi esseri dell'universo quando si sceglie un'incarnazione c'è anche uno scopo di crescita personale e poi lo diventa per per il prossimo ecco io ho un po' di ricordi di vite passate ripeto come avviene il ricordo già non è un ricordo mentale anche qui c'è sempre questa un po' dualità tra la mente e il cuore la mente ricorda ciò che abbiamo vissuto in questa vita ma a un livello cardiaco io lo avverto qua c'è una memoria la memoria dell'anima è il ricordo dell'anima e in questa memoria vivente per me presente passato e futuro è tutto nello stesso momento io a volte anche qui qualcosa che non ho mai detto stasera mi hai dato da bere a distanza Luca non so cosa mi hai dato un elisir di parola io a volte nel corso della giornata percepisco una me che sta già nel futuro e sta osservando il suo passato non so non so se è chiaro quindi percepisco nella stanza che c'è una futura me che sta facendo un viaggio nel tempo e mi sta guardando quindi è una nozione del tempo molto particolare idem per la memoria che abbiamo quindi la memoria la vivo come un essere vivente un'entità vibrante non è un ricordo un ricordo è quasi piatto rispetto a questa memoria è un liquido un plasma è vita lo stato puro la famosa cascia e in alcuni momenti della giornata o in periodi della mia vita io sento proprio come se il mio cuore si aprisse lo sento sbocciare sento ognuna delle mie cellule sento ognuna delle mie cellule aprirsi come fosse un fiore e questa memoria sale non so come descriverlo diversamente mi si appropria mi ingloba la memoria mi ingloba e io rivivo rivivo nel corpo dell'epoca non è un ricordo mentale cioè io rivivo nel corpo dell'epoca una scena una vita ma ogni sensazione non so se l'ho già raccontato quella vita dove sono stata un'amazone lo dico perché l'ho già detto non mi piace parlare delle vite passate però in quella vita per esempio mi ricordo sono stata uccisa da una pugnalata beh io quella lama l'ho vissuta oggi quindi ho sentito il sangue colare ho sentito le altre pugnalate dietro o sono uscita dal corpo ho visto il tunnel la luce e sono andata nell'aldilà quindi molti mi dicono tu cosa ne stai di morte in questa vita ne ho rivissute tante di morti ne ho riviste tanti tante di mie morti con il corpo dell'epoca quindi so che sensazione ha so che uso ha come si dice so che cosa vuol dire morire e a me il ricordo la memoria di vite passate arriva quando è necessario per la mia anima qui cioè devo ricordarmi di un pezzo di me mi riapproprio di un pezzo del puzzle non è mai per curiosità non è mai per ego io per ego non ho mai ricevuto nulla non vedo nulla a quel livello ecco se faccio delle domande collego ed è raro perché so come funzionano le cose non succede nulla quindi la vita la mia anima apre il mio essere affinché delle memorie arrivano perché è il momento il terzo occhio è un po' tutto quello che sto dicendo è la visione dell'anima però per avere la visione dell'anima dobbiamo connetterci a lei non ce n'è il lavoro su di sé non si sfugge al lavoro su di sé siamo qui per innalzare le nostre frequenze siamo qui per innalzare la frequenza della materia perché noi siamo già degli esseri divini il compito della nostra età animica è innalzare rianimare la materia con le verità dello spirito è far diventare la materia pari allo spirito quindi non siamo qui per aprire il terzo occhio non siamo qui per fare viaggi astrali queste cose le facciamo già fanno già parte di noi nell'aldilà allora per aprire il terzo occhio saremo rimasti nella nostra casa in altre dimensioni siamo qui e ci tengo a ricordarcelo siamo qui per rinnalzare ciò che ha dimenticato la sua essenza divina e essere divini è amore è luce non siamo qui per altro le facoltà i poteri soprannaturali ce li ritroviamo tutti appena ci rivedremo dall'altra parte o di notte di notte abbiamo tutti queste facoltà arrivano nel momento in cui la nostra carne la nostra carne ha aumentato le sue frequenze e si allinea sempre di più alle vibrazioni dell'anima più la nostra carne diventerà anima e più le capacità dell'anima che abbiamo tutti in altri mondi faranno parte anche di di questo mondo allora mi fa sorridere Raffaella lei sto leggendo un po' di commenti lei è una rettiliana rettificata bellissima questa frase è verissimo è verissimo perché io non ho non ho un bel rapporto con questa razza invece da qualche mese a questa parte mi sono un po' ricreduta perché molti di loro si stanno riconvertendo in realtà stanno proprio sono tutti gli esseri che possiamo definire nell'ombra sono degli esseri che soffrono c'è una sofferenza in loro non c'è un essere nell'esistenza che non sia stato generato dalla fonte tutti proveniamo dalla vita dalla luce ogni essere ogni entità se un essere in questo momento sembra il male è perché porta una sofferenza così forte da averlo allontanato dalla fonte in qualche modo ha rinnegato la madre sono esseri arrabbiati con la grande mamma e quindi anche loro facendo un loro lavoro su di sé sempre più stanno passando stanno passando proprio alla alla loro luce e in altre in altre ere erano esseri i rettiliani esseri erano dei esseri davvero di amore e di luce o dei ricordi di quei popoli che erano di una bellezza e di una luce incredibili sono caduti successivamente Roberta vi tengo ancora qua un po' poi se siete stanchi vi scollegate da soli ti faccio fare le ore piccole stasera si può decidere di non reincarnarsi io direi no Roberta non si può si può decidere di farla andare per le lunghe di rimanere tanto lassù di aver bisogno di tempo per riposarci per riprenderci un attimo ma abbiamo fatto questa scelta non noi quanto personalità ma la nostra scintilla divina il nostro spirito è proprio nella nostra scintilla il programma di fare l'esperienza dell'incarnazione e delle ora non voglio tirarla per le lunghe però la nostra scintilla divina ha iniziato un percorso di dimenticarsi di se stessa di caduta vibratoria per ritornare ad essere un essere divino nella materia viene per ricordarsi per imparare ad essere il dio che è noi eravamo dei inconsapevoli gocce divine che non sapevano di essere degli dei ci dimentichiamo di esserlo per diventarlo consapevolmente un dio è colui che non si fa fermare dal limite della materia siamo venuti a portare l'impossibile l'infinito laddove è finito è scritto nella nostra anima quindi prima o poi torniamo sul pianeta terra e mi pare fosse Paola l'ho persa nei vari commenti siete in tantissimi o Raffaella non mi ricordo più vabbè scusate i nomi comunque la nostra anima vuole reincarnarsi è la personalità che non ne ha voglia ma noi ne abbiamo voglia la nostra anima quindi ogni volta che soffriamo che ci diciamo io non voglio io sono stanco io me ne torno a casa ditemi che è la personalità perché l'anima se noi ancora oggi siamo qui e stiamo respirando è perché lei con tutta se stessa vuole essere qui ed è lei la saggia se noi non lo vogliamo è perché c'è un interferenza siamo noi ad un essere allineati con lei e quindi non siamo anima allora guardo ancora un po' di direi che non fa una piega Shanti eh sì 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 ecco io in questi giorni c'è un'energia sul pianeta bella bella tosta e ti dico che anche qui nel verde la sto sentendo tutta e eh sono giorni faticosi proprio faticosi mi sembra di di muovermi in un liquido astrale pesantissimo i gesti sono faticosi ogni cosa se se fino a qualche mese fa tutto fluiva parlo fino al 2019 ora ogni cosa è è molto molto difficile e ehm e vedevo no che ero in una sorta di sofferenza di fatica e ho dovuto andarmi a vedere dove non ero in linea è sempre è sempre lì una volta che ehm ci connettiamo con la nostra dimensione interiore e ci diamo lo spazio e il tempo di connetterci alla vita la si può trovare nella natura in un luogo sacro ehm io a volte ho bisogno di staccare e di mettermi a giocare con i bambini fare dei disegni mi aiuta un casino proprio tornare alla terra fare l'orto sono cose che mi aiutano a ritornare sull'essenza delle cose e lì mi connetto a lei e non c'è nulla che non va non c'è nulla è il mio modo di vivere le cose che non va sono i miei limiti dell'ego ciò che io ehm le mie costruzioni mentali è tutto questo che crea la difficoltà e è un periodo storico dove ci sta portando ad affinarci tantissimo cioè tutti quelle quegli scogli quelle eh quelle parti dure del nostro essere vengono proprio smussate quindi è un periodo duro quello che possiamo fare è andare a vedere dove ancora siamo siamo duri degli gnocchi duri sono d'accordissimo sì allora Luca gentilmente puoi chiedere a Chantal che valore dà la ricchezza al denaro per le persone sarebbero interessate sui corsi ma non hanno le possibilità economiche per frequentarli allora Mara noi siamo molto aperti per chi ha difficoltà economiche per portare avanti un lavoro come quello che stiamo facendo ci vuole uno staff ci sono diverse persone che lavorano abbiamo dei corsi di sale hotel viaggi aerei indescrivibili ora non non voglio mettermi a fare i conti ma davvero tra le tasse l'iva e quello e quell'altro sono dei costi incredibili dietro dietro il portare un messaggio di questo tipo ma aiutiamo tantissimo le persone che hanno difficoltà economiche ovvio che non possiamo tutti però fatelo presente alla segreteria che possiamo venirvi incontro diamo comunque la possibilità a queste serate che sono gratuite diamo la possibilità a volte degli eventi di una giornata che sono gratuiti quindi insomma cerchiamo di venire incontro a volte faccio serate di 10 euro altre volte mezza giornata sono state fatte a 20 euro giusto per pagare le spese della sala cerchiamo di andare incontro a tutti capisco le difficoltà economiche io non vengo assolutamente da una famiglia ricca proprio per niente quindi so cosa vuol dire avere delle difficoltà scrivetelo scrivetelo e io che valoro do il denaro per me il denaro è energia per me il denaro non è il male è energia che ci permette di creare ci permette di creare quando abbiamo delle difficoltà economiche è perché la nostra energia creatrice non si esprime pienamente in noi cioè non lasciamo la nostra anima libera di esprimersi questa è la creatività il denaro rappresenta quanto dell'anima lasciamo fluire attraverso di noi quanto lei può manifestarsi infatti il denaro ci permette di manifestarci nel mondo concreto di creare senza denaro in questo mondo purtroppo ancora oggi si può fare ben poco ma se ci lavoriamo con un lavoro analogico possiamo vedere che quando ci sono delle difficoltà economiche è perché dentro di noi l'energia divina l'energia della vita non la lasciamo esprimere perché abbiamo paura perché non ci sentiamo degni perché abbiamo paura ecco paura di esprimerci c'è un blocco nella nostra energia creatrice altrimenti non siamo destinati a ristrettezze economiche queste sono leggi universali sono leggi che vanno oltre tutti i nostri governi magari un giorno parliamo delle leggi universali nel momento in cui noi lasciamo fluire la vita per forza di cose è matematico scientifico non so come dirlo che questo avviene anche all'esterno quindi nel denaro siamo destinati alla ricchezza non alla ferrari che non cedo nulla di male nella ferrari ma non alla ricchezza posseggo tante case e castelli ma l'essere umano non è destinato alla povertà se la povertà c'è è perché in noi non lasciamo esprimere la vita pienamente quando noi siamo delle fonti di abbondanza beh questa abbondanza corrisponderà anche all'esterno così dentro così fuori è legge è la legge dello spirito partite sul vaccino e lì mi fermo questa sera voleva essere un break dal mondo e farvi viaggiare un po' in in altri mondi proprio così allora steiner dice che siamo nell'epoca della manifestazione del cristo nel mondo eterico allora non so nel mondo eterico ma siamo nella manifestazione dell'energia cristica sta tornando sul pianeta se duemila anni fa questa energia è passata attraverso un essere oggi passerà attraverso diversi cuori diverse persone la famiglia cristica si sta riunendo sul pianeta e essere cristici non vuol dire aderire alla religione cattolica Cristo è l'energia è il padre del nostro sistema solare è il nostro sole è l'entità che più si avvicina alla alla fonte noi esseri umani quando parliamo parliamo al sole che può essere anche chiamato Cristo quindi questa entità questa vibrazione scusate non è un'entità questa vibrazione in realtà abita tutti noi quindi attraverserà abiterà coloro che apriranno il loro cuore la loro porta per far sgorgare questa energia ed è proprio è proprio il tempo di riportarlo sul pianeta terra quindi non so se sarà un livello fisico eterico astrale scusate ignoranza mia Steiner è un grande non posso minimamente paragonare la mia visione a quella che aveva lui però confermo che che il ritorno vibratorio attraverso una moltitudine di persone del Cristo porterà a un salto di coscienza ci chiedevano Chantal se è possibile frequentare i tuoi corsi online come potete vedere in sovraimpressione i banner stanno girando e quindi questo weekend 11 e 12 settembre si terrà online il principio femminile c'è ancora qualche posto le iscrizioni sono ancora aperte per informazioni scrivere a info chiocciola chantaldejean.com che è la segreteria chiaramente quindi c'è ancora qualche posto per il principio femminile ovviamente questo corso questo seminario è destinato solo ed esclusivamente alle donne sì lo so che gli uomini si sentono esclusi ma ci vuole un utero per fare questo seminario perché si lavora nell'utero che è un tempio è una matrice c'è tutto un lavoro un lavoro da fare proprio sull'energia femminile in quanto la donna capta le verità del cosmo e le traduce nell'utero prima di esprimerle quindi è un processo particolare la donna come rappresentante del principio femminile ha un ruolo di portare sul pianeta terra le verità sottili e oggi più che mai siamo la vigilia di una nuova umanità non la troveremo pronta e molti mi dicono dai Chantal tra qualche mese siamo nella quinta dimensione ci saremo forse a un livello vibratorio ma non dobbiamo aspettarci che ci troviamo i castelli di luce di cristallo le fontane e gli unicorni non funziona così bisogna costruire costruire il mondo nuovo per costruire il mondo nuovo bisogna prima di tutto riconnetterci con l'anima per far sì che attraverso di lei scendano quelle informazioni per manifestare dei principi armonici nell'architettura nella salute nell'educazione nella politica nella coppia nella famiglia in tutte le sfaccettature della vita per portare l'armonia bisogna che l'anima parli allo spirito attraverso il corpo ora sono tutti concetti avanzati e la donna ha un ruolo molto importante in tutto questo quindi ci tengo a lavorare tanto con le donne perché l'uomo incarnerà sempre di più il nostro maschile sacro l'uomo l'uomo io lo vedo proprio come è il cavaliere è colui che protegge è colui che innalza è colui che porta la parola lui la manifesta la incarna quindi sempre di più gli uomini avranno un ruolo di difesa di di essere coloro che sposano le verità dell'anima e che difendono queste verità e la donna sta a lei ascoltarle quindi ecco si lavorerà su su questi aspetti allora quindi vi ricordo questo weekend 11-12 settembre online il principio femminile per iscrivervi la mail info chiantaldejean.com poi vi ricordo un altro corso seminario che si visiterà sempre online il 16 e il 17 ottobre prima di nascere quindi prima Chantal ci ha accennato qualcosa è un seminario estremamente importante a mio avviso ci dà sicuramente delle chiavi di lettura straordinarie per per vivere in questo momento storico è un corso che mi è arrivato proprio in questo periodo non so da dove è arrivato ma è arrivato è sceso e anch'io mentre lo scrivevo imparavo perché ci sono cose che sapevo ma proprio imparavo e tutto torna mostra proprio l'evoluzione necessaria le tappe evolutive che l'anima deve fare sul pianeta terra prima di poter uscire dal ciclo delle reincarnazioni quindi prima dell'illuminazione quindi ci sono proprio delle archetipi delle fasi un po' dicevo tutti dovremo vivere la fase di un Gesù non so che sembra assurdo ma dovremo vivere anche quella fase lì quindi è proprio un processo di comprensione di che cosa l'anima è venuta a fare in questo ciclo di incarnazioni perché io penso che se abbiamo gli strumenti per sapere chi siamo da dove veniamo che cosa siamo venuti a fare innanzitutto la vita diventa uno spasso ce la godiamo molto di più e tutto si accelera cioè tutto diventa più veloce così come le incarnazioni e si si evolve più consapevolmente con più spasso divertimento gioco e leggerezza insomma è quella la vita bene poi volevo anche aggiungere questo evento che è un evento alla quale se non ricordo male è la prima volta che tu sei stata invitata quindi dal 30 settembre al 3 di ottobre Chantal sarà presente a Pescara il convegno internazionale di ricerche parapsichiche e bioenergetiche organizzato da Nicola Cutolo ovviamente internazionale perché ci saranno personaggi da tutto il mondo quindi se volete se volete incontrare Chantal dal vivo dal 30 settembre al 3 ottobre insomma se andate poi sul sito trovate tutte queste informazioni sì ho aderito a questo questo convegno perché trovo per me come esperienza personale eccezionale il fatto di potermi incontrare con altre persone come me sparse per il mondo e il fatto di ritrovarci tutti nella stessa stanza deve essere una cosa ben vibrante quindi per me è un appuntamento personale io non ci vado per lavoro non ci vado ma è proprio ora sì parlerò ok ma ci vado proprio per me Chantal per mettere un pezzo di puzzle in più nella mia storia perché sento che l'incontrarci anche il riunirci fisicamente amplifichi quello che già stiamo facendo a distanza nel sottile quindi ci vado proprio per per portare un impatto all'Italia al pianeta energetico ovviamente di unirci nel fisico può essere tanti tante tante persone un po' strane come me e quindi insomma penso che essere insieme per 3-4 giorni si possono smuovere un po' di cose bene volevo dare un'informazione di servizio se posso Chantal non fa più individuali quindi non riceve più perché non ha tempo Chantal ha anche una famiglia quindi non ce la fa però Chantal ha formato ha formato degli operatori grandiosi degli operatori in trattamenti Esseni Egizi e le antiche pratiche di Iside e potete trovare tutte queste informazioni sul sito di Esseni Academy che adesso vi posto sotto come banner che così se avete bisogno eccolo qua potete collegarvi alla pagina al sito web chiedo scusa di Esseni Academy andate su operatori e trovate tutti gli operatori che sono stati formati da Chantal perché appunto Chantal non riceve più le persone siccome ogni tanto Chantal scrivono a me in privato credendo che io sia il tuo segretario e mi chiedono posso avere un individuale con Chantal e quindi chiaramente ecco lo dico qua apertamente davanti a tutti e l'ultima cosa molto importante noi ci vediamo allora eccoci qua ci vediamo il 13 ottobre sarà un appuntamento molto bello molto bello perché questa volta sarà una chiacchierata tu per tu ok quindi racconterò anch'io qualcosa sulle mie esperienze sull'ultimo libro scritto chiaramente e quindi anch'io racconterò della morte diciamo la mia esperienza con la morte e quindi ci sarà un confronto fra me e Chantal una bella chiacchierata sicuramente che porterà moltissime consapevolezze parleremo di al di là parleremo un po' più dell'al di là perché molti chiedono quindi sarà una puntata proprio sull'al di là e visto che anche Luca ha avuto diverse esperienze che lui non dice ma ha scritto quindi ecco mi piacerebbe che ne parlassimo perché il tuo libro è straordinario e quindi sin da piccolo hai avuto proprio questo rapporto stretto con la morte l'hai vista in faccia in qualche modo e quindi ecco mi piacerebbe avere uno scambio con te su ciò che abbiamo vissuto e su come superare il dolore eccetera quindi sarà una serata all'insegna dell'aldilà e teniamo comunque ci sono molte domande questa sera interessanti sul senso di colpa quindi ce le segniamo e almeno ci date idee per le per le prossime puntate perché io non so cosa dire sinceramente non so cosa cosa interessante cosa non lo è quindi almeno mi date delle delle idee perché do molte cose per scontate allora scrivete pure le domande bene insomma un'ora e 54 minuti Chantal direi che siamo andati oltre le previsioni la connessione internet ha tenuto la grande quindi siamo diluvia diluvia siamo molto felici io vedevo i lampi ogni tanto sentivo i tuoni però insomma dai siamo siamo riusciti a fare questa serata molto bella a mio avviso grazie a tutti per essere stati così tanti perché è bellissimo moltissima partecipazione grazie a te Chantal chiaramente per questa opportunità è molto bello essere qua con te e quindi ci vediamo il prossimo il prossimo appuntamento che sarà il 13 ottobre grazie mille a tutti ci ci risentiamo presto se avete domande davvero non esitate sarò felice di rispondere in base a quello che posso grazie a tutti Luca grazie come sempre davvero a voi grazie buonasera a tutti ciao bacio buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti